Ciao a tutti ragazzi, sono Matti05 e sono qui per andare su Clash Royale e fare qualche partita. Intanto posso anche dirvi che io sono appena arrivato, lo capite? Cioè, voglio inventare un canale, raga, e quindi per inventare un canale mi servono i pollicioni, i like, i pollicioni in su, per favore, raga. E' il mio primo video in tutta la mia vita, mi dirai i like per favore, raga avete visto l'aggiornamento e il mio baulo, super magico, raga non perdiamo tempo, andiamo subito, allora questo è il mio deck per le partite normali, andiamo a fare subito Allora 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 Del suo Il mio Il mio Il velocity Il tuo e poi invece c'è e vi stavo dicendo che mio papà mi interrompe sempre adesso andiamo a fare con questo così comunque le due vissi due 3 minuti dai vado dagli incantesimi bella 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 mossa ma si ci sta ci sta ci sta ci sta tutta ci sta tutta ci sta ora raga mettiamo il doppio pari di goblin ok come volete voi no madonna ma perché brutta giocata ci vorrei scrivere ahia ragazzi vai vai dragon fernare ma grande il dragon fernare tre infernare contro il dragon fernare vai vai che l'arco lì non è vero E comunque Ciao a tutti ragazzi Questo video Non so se vi è stato d'aiuto Comunque Ci vediamo quando si sbloccherà il mio baulozzo super magico Ve lo porterò in diretta qui ragazzi Qui ragazzi Qui E adesso raga per favore Per favore Mettete i pollicioni in su Ve lo scongiuro E Ciao